Un docufilm che racconta frame dopo frame la storia di un gruppo di ragazzi e ragazze campioni di nuoto paralimpico. La telecamera li ha spiati durante la preparazione delle scorse paralimpiadi di Rio. Il risultato sono 40 minuti che hanno visto il giornalista del Sole 24 Ore, Riccardo Barlam, vestire i panni del regista e firmare la pellicola Pesci Combattenti. I Pesci Combattenti è un documentario che racconta la storia dei sette campioni di nuoto paralimpico che si allenano a Milano e il loro percorso che li ha portati fino alle Paralimpiadi di Rio 2016. Sono gli unici ragazzi di Milano e della Lombardia che sono stati a Rio e che hanno vinto delle medaglie e pochi lo sanno, si allenano, si fanno tanti ore di allenamento, tanti sacrifici e sono forti, fortissimi, sono tra i primi posti del ranking mondiale. Il film racconta la loro storia, è un film di forza, di forza fisica, di gara, di sport, ma anche di forza interiore perché racconta le loro storie. Persone che con il limite hanno a che fare tutte le mattine da quando si svegliano e mettono giù i piedi.